Uno, via! San Martino si riporta alla posizione di partenza, Carnazzo cerca di recuperare una gara molto tesa, San Martino dà forse lo struttore decisivo e c'è, c'è, c'è. A noi c'è il consigliere della Prologo Francesco Amadori, allora come funziona? Beh, oggi è la finale del nostro palio del cardinale, del trionfo del cardinale, tutto nasce nel lontano 1559 quando il cardinale Giulio della Rovere, fratello del Duca Guido Baldo II, dà in onore della città di Fossombrone una rara e bella cursa all'anello che ci sarà fra poco con i cavalli. A quel punto il cardinale, al migliore della sua corte, al vincitore, dava il palio del cardinale. Poi alla sera c'erano tutta una serie di festeggiamenti nelle varie locande dell'epoca. Noi siamo partiti da lì, da dei documenti realmente esistenti. Dei manoscritti che avete trovato in biblioteca? Assolutamente, sono dei manoscritti di un buffone di corte. Il buffone di corte, bisogna specificare, non è il giullare, ma è un uomo della corte, sa leggere, scrivere, sa recitare, ma soprattutto annota ogni movimento della corte stessa. Al seguito di Giulio II, di Guido Baldo II, il buffone annota che nel 1559, durante il festeggiamento di carnevale, il cardinale dà in onore di Fossombrone questa rara e bella cursa all'anello. Noi siamo ripartiti da lì, abbiamo ricreato l'atmosfera rinascimentale, perché la parentesi che voglio fare è che Fossombrone, alla pari di Urbino, che ovviamente è la capitale e ha tutta un'altra importanza a livello storico, ma è una città del rinascimento e basta fare un giro, basta che facciate un giro lungo le vie del centro storico per vedere il rinascimento da vicino. Siamo ripartiti da lì, abbiamo creato un'atmosfera che era quella della rievocazione, storica, i giochi fra i quartieri, fra i dodici, delle dodici contrade, fra borghi, ville, quartieri e castelli del vecchio comune di Fossombrone. Infatti ci sono dei comuni che non sono più appartenenti a Fossombrone? No, ci sono anche i comuni di Monte Felcino e di Sant'Ippolito, che però erano castelli di Fossombrone all'epoca. Da lì abbiamo ricreato filologicamente tutta un'altra serie di percorsi, quello dei cibi rinascimentali, degli addobbi rinascimentali, dei vestiti rinascimentali. E da lì siamo partiti, questo è il secondo anno, siamo orgogliosissimi, perché era una festa che non si faceva da 12 anni, dopo 13 edizioni del passato, dall'89. E da lì siamo ripartiti, siamo orgogliosissimi perché la Proloquo Forum Semproni veramente si è data l'anima di più per fare che tutto sia perfetto. E mi sembra che la cornice di pubblico... Vedendo la gente che è venuta a vedere, sa che va bene. Noi siamo molto felici, anche se stanchi, stanchi morti, però l'importante è quando uno ci mette il cuore e anche il riscontro che poi ha nella società civile. E basta vedere qui i ragazzi che fanno i giochi, che sono circa 800, tutti vestiti. I nobili con la corte del Duca, che è venuta da Urbino, la rappresentanza dei conti Ubaldini di Apecchio, i nobili di Folsombrone, il cardinale Giulio della Rover, che sono circa 160. I bambini, tutti vestiti in maniera filologicamente rinascimentale. Ho visto qualcuno piccolissimo! Purtroppo l'unica cosa che ancora non siamo riusciti a fare è una piccola tettoia per i nobili, perché oggi mi sa che con questo sole, per fortuna che c'è questo sole, però ci stanno un po' scaldando. E' rosolante! Però sono nobili e una volta tanto dovranno anche loro un po'... Soffrire un po' come gli altri, no? Come i plebegni. Come gli altri, come gli altri, sì. E niente, oggi c'è la finale, adesso c'è il gioco più sentito fra i quartieri, che è il tiro a lacune, quest'anno per la prima volta anche femminile. Poi questa è la finale femminile fra Calmasso e il quartiere di San Giorgio. Tutto è pronto! E dopo ci sarà quella maschile. E poi ci sarà il palio, vero e proprio, che decreterà il vincitore... Dopo i cavalli. Che decreterà il vincitore dell'edizione 2015. L'anno scorso è stato San Martino, quest'anno San Martino ha già riconsegnato il palio, vedremo chi sarà il prossimo vincitore. Perfetto, noi ti ringraziamo, i complimenti. Grazie a voi. Buongiorno, Sant'Antonio. E dei ragazzi che sono i partecipanti, parliamo con? Loris, Marco e Alessandro. State divertendo? Certo, siamo primi. I primi del tiro alla fune? No, siamo primi nei giochi, per adesso. Ah, di tutti i giochi voi siete i primi. Quindi, spero, sì, per adesso, ma ancora è lunga. Chi è che vi rappresenta, il nobile? È il nobile, chi è? Messier Fregoso. Fregoso. Siete dei bravi sudditi, mi sa, eh? Messier Fregoso nostro. Lorenzo vuole solo domande semplici. Vincendo molto allegri, molto eforici, perché mi sa che ormai alla fine siamo agli sgocceri, quindi si può proclamare ormai la vittoria? Sì, speriamo. Dobbiamo puntare nel cavallo, che siamo rimasti solo lì. Se vinciamo il cavallo abbiamo speranza di vincere i giochi, quindi siamo molto speranzosi. Non tirare, non tirare. Allora, tre, due, uno, un. Allora, finire, con le scassioni ci saranno, prendete l'opera, prendete l'opera, calmazzo 1-0, non li lasciate. Un applauso a Giulia, dai, che si è fatto una piccola sbucciatura, la incoraggiamo così. Via. Ancora calmazzo contro San Martino, 1-0, calmazzo. Il prossimo che la sarà fuori, lo frusco. Sbucciare, buttare, ma non tirare. Ok, tre, due, uno. Partiti, questa volta è più combattuta. Come sta andando? Siete terzi? Attualmente sì, abbiamo anche perso la voce per il tifo. State rimontando? Speriamo di vincere, non solo rimontare, i giochi non sono fatti, giocheremo fino alla vittoria. Fino alla morte. Addirittura, Luca. Duri fino alla fine. Quindi già i due giorni che siete in piena gara, impegnati, vi impegna quasi tutto il giorno questa gara? Sì. Da ieri sera a Taverna e Locanda, quindi siamo impegnati dalla mattina alla sera. Sono tre giorni intensi, due di spettacolo e due di sistemazione. Perfetto, vi ringrazio. Grazie a te. Bocca a Luca. Grazie. Montecelso è un po' di più, Montecelso per il momento. Ghilardino non molla. Ghilardino non molla. Un leggero vantaggio per Montecelso recupera Ghilardino, poi rimolla, recupera Ghilardino, sta recuperando Ghilardino qualche centimetro, poi subito bollato. Questa volta è molto contesa ma Montecelso ha preso 10 centimetri. Chi va da fossero strutture decisivo e c'è, 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 c'è. Promette bene e poi anche nell'organizzazione, nel venire comunque qui alla festa ci si diverte uguale anche se non si arriva a primi. Ah certo, no, no, ci si diverte sempre. Come ho detto prima, Vara, divertirsi è la cosa principale. Per quelli di Sant'Ipolito, dopo per gli anni non lo so. Eh no, ma Sant'Ipolito è meglio, vero? Sant'Ipolito è fastoso, sì, sì, a noi... Ti piace divertirsi? Sì, sì, divertimento, basta. Va bene, grazie. Sì, 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 sì.